Signori, buongiorno, nessun nuovo video, questo è solo per discutere un attimo tra di noi sul futuro della rubrica del canale Il titolo immagino non l'avete visto, cosa ne facciamo del D20 System Spieghiamo un attimo meglio Quando ho cominciato la rubrica del D20 System, la mia idea era quella di discutere in generale del sistema Perché è quello più diffuso e quello che fondamentalmente ogni master deve conoscere Anche perché è relativamente veloce, relativamente semplice, abbastanza modulare Quindi può essere plasmato per fare varie cose E quindi come sistema di riferimento mi sembrava ottimo Adesso dopo tre anni di canale, tutto quello che si poteva dire sulle basi del D20 System Oramai si è detto Ho ancora 4-5 video possibili da fare Che mi sono segnato tra le cose di cui sarebbe importante parlare Però è una rubrica che, così com'è, è destinata a morire nella quarta stagione Probabilmente anche prima e alla fine della quarta stagione A questo punto chiedo a voi che siete il pubblico Facciamo qualcos'altro, cosa vi interesserebbe fare Ho sentito già alcuni degli iscritti con cui sono in contatto Che hanno detto, per esempio, di parlare dei mostri Farla diventare una rubrica dedicata alla lore Fare degli esempi pratici Quindi, alla fine ho deciso di Facciamo un video, chiediamolo direttamente a voi Cosa vi piacerebbe vedere nella rubrica D20 System O se la rubrica D20 System la ammazziamo E piuttosto la sostituiamo con qualcos'altro Fatemi sapere cosa ne pensate Scrivetelo qui sotto nei commenti Io così ci avrò il mese di agosto per preparare ulteriori cose E poi piuttosto a settembre con la quarta stagione del canale ne riparleremo Non voglio farvi perdere altro tempo Grazie a chiunque darà una risposta Io sono il Master Kai Ci vediamo a settembre E per chi se lo stesse domandando Se non ci fosse il ventilatore Voi i video non li avreste visti Ciao